Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere, tanto più per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte a una malattia così fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi. Quindi io mi vaccinerò, appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio di un'esercizio, non è un'esercizio, non è un'esercizio, non è un'esercizio, non è un'esercizio.